Cari appassionati di veicoli storici, finalmente dopo quasi due anni di fermo totale mondiale l'Associazione Amici della Paraplegia organizza il 9-10 ottobre presso l'Ario Fiere di Erba che è in provincia di Covo, una bellissima e stupenda mostra a scambio di auto e motore lente. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!